Ciao, sono Rosa. Benvenuti in questa nuova puntata di Scopriamo l'Italia assieme. Con Viaggiando Italia. In questa puntata ti consigliamo un itinerario che si sviluppa nella provincia di Frosinone. Lo potrai compiere anche in un solo giorno e si svolge interamente nel Lazio. Durante questa gita potrai ammirare Isola dell'Iri, con la sua cascata grande che scorre nel centro città. Arpino, il bel borgo in cui nacque il filosofo romano Cicerone. Casamari, dell'anno 1200, uno dei più importanti monasteri gotici cistercensi. Segui il link in descrizione per scoprire di più. Iscriviti al canale. Leggi, viaggia e sii felice con viaggiandoitalia.it A presto!